Eccoci, nuova puntata di Facciamolo, non ricordo il numero come al solito, siamo qui live con Riae. Ciao! Allora, per chi non lo sapesse, credo molti pochi, Riae è una content creator su SideGirl, quindi Alternative Model. Esatto. E content creator di un certo tipo perché lavori su OF. Esatto, prima Patreon e poi OF. Ok, ah, non sapevo avessi iniziato da Patreon. Sì, esatto. Che poi credo su Patreon adesso non si possa più fare... No, 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 zero, non puoi postare praticamente più nulla di nudo, infatti sono andata via per quello. E quindi sei passata al lato scuro. Che è molto meglio. Che ci hanno pure provato a pensare di togliere i contenuti su OF per un periodo. Sì, è vero, era forse l'anno scorso, verso ottobre, sì, ma hanno capito che no, la maggior parte dei soldi viene dalle sex worker. Quindi non gli è convenuto, cioè hanno fatto tipo, dopo tre giorni hanno detto forse non è il caso. Sono un attimo resi i conti, gli ho preso un attimo il matto. Ma penso perché volessero entrare in borsa e non puoi quotare un'azienda che tratta pornografia in borsa. Ah, ok, ok. Ma hanno capito che fanno più soldi dalle nostre patate che... Tira più un pelo di... che la quota in borsa. Esatto. E senti, io solitamente quello che faccio è non presentare completamente l'ospite, ma lasciare anche spazio. Oltre a come ti ho presentato, come ti introduci in questa puntata? In realtà mi hai presentato benissimo, quindi... Poi scopriremo piano piano cosa sono, come sono, che sono. Si può dire anche imprenditrice? Imprenditrice digitale. No, Chiara, non stavo scherzando. Non era un dissing? No, 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 assolutamente. La regina, no. Ok, ok. Secondo me è molto bello poter essere qui e parlare finalmente... Cioè, finora in Facciamolo non c'era mai stata una sex worker, una creatrice di contenuti di questo tipo. E poi tu c'hai, diciamo, la peculiarità di essere nata ai tempi delle Suicide Girl. Nella pre-storia dell'internet. Sì, no, perché era una cosa che credo... Quando c'era in voga Facebook, cioè io mi ricordo... Ma ancora prima, MySpace. Forse tu non eri nato quando... Però non l'ho mai avuto, ho avuto Netlog. Io sono uno di quelli che ha avuto Netlog per un anno, poi abbandonato perché c'era Facebook. Io non ho mai avuto Netlog. Avevo iniziato con MySpace e lì sono diventata super popolare. E poi pian pianino è cresciuto poi Facebook, poi Instagram. Instagram ci ho messo un bel po' a averlo prima. Non avevo l'iPhone. E quindi non potevo iscrivermi perché prima Instagram era solamente per gli utenti che avevano l'iPhone. Ah, non la sapevo questa cosa? E io non ce l'avevo. Io avevo un Nokia. Quando ancora il Nokia si poteva avere... Adesso credo sia andato... Non esiste più un Nokia. Sì, oppure c'è Android, però è una di quella roba un po' rara. Sì. Potremmo chiedere ai nerd dei telefonini nei commenti. Sì, sì. E senti, tipo, com'è vissuto il passaggio da Suicide Girl fino a OF? Quindi passando anche per Patreon. Allora, ho iniziato con Suicide nel 2007. Quindi non era ancora così tanto popolare. Avevo visto un articolo su una rivista di tecnologia. Ho mandato le foto e ho detto, vabbè, ma chi mi prende? Non mi prenderanno mai. Mi prendono. E il mio personaggio è continuato a crescere, 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 crescere. Non piacevo tanto ai padroni del sito. Ok. Ma agli utenti piacevo tantissimo. Anche perché ero abbastanza extreme. Cosa di cui mi pento adesso. Come mai? Perché ho dato talmente tanto al sito, delle mie parti intime, parlo, delle foto, dei video, che adesso non è più così difficile trovarli. Ok. Io vedo content creator adesso che riescono a fare centinaia di migliaia di euro al mese, non facendo vedere niente. Sì, c'è un po' questa cosa. Esatto. Io invece comunque da Suicide, poi Tumblr, io su Tumblr postavo praticamente di tutto. E anche lì c'è stato il discorso che prima si potevano postare i nudini e poi non più. Penso potrebbe anche essere per il fatto che non puoi avere materiale erotico in un'app e Tumblr era diventata un'app esattamente come Patreon. Non lo so. Però a un certo punto hanno tolto la cosa e mi ricordo che piangevo con gli amici per questo motivo. Sì, perché era come tipo Twitter adesso. Sì. Elon, ti prego. Almeno tu. Rimani. No, lui mi sembra super limbo. Sì, sì, sì. Adesso il suo cane è diventato il CEO di Twitter, credo. A posto, a posto così. Tutto a posto. Me l'ero persa questa. Ok. E quindi, cioè, a distanza... Quanti anni sono? A quindicina? Eh, al 2007. Sì. La tv era ancora in bianco e nero, forse. Quindi 16 anni. Sì, un sacco di tempo. E ad oggi c'è tipo a guardarti indietro? Cioè, come lo visualizzi il percorso? Cioè, come... Che sguardo gli dai? Ma in realtà sono stata bravissima. Perché se no non sarei qua a quest'ora. Tantissime ragazze hanno iniziato con me e si sono perse per strada. Io ho avuto proprio la costanza perché mi sono... Allora, pensavo di non avere possibilità. E quindi penso che il voler continuamente andare avanti mi abbia portato a passare le giornate a mandare foto alle riviste di tatuaggi. Alla fine le ho fatte praticamente tutte nel mondo. Dalla più piccola alla più importante che era Tattoo Life. In Cat Magazine e quelle robe lì. Quindi ci ho proprio messo tanta passione. Che adesso un pianino va a svanire. Ma penso sia normale. Quindi 16 anni che fai la stessa cosa. Che devi, che ne so, avere sempre i capelli colorati. Mantenere un certo look. Mantenere un certo mood. Che comunque ha sempre a che fare con la sessualità. E ci sono dei giorni in cui no. Ma no, la sessualità. Voglio essere una foca. Non una fica. Il goblin mood. Esatto. Sì, sì, invece no, devi essere sempre nelle storie figa, un po' sexy. Quando magari delle volte non hai voglia. Però suppongo che adesso il lavoro che magari facevi 15, 10 anni fa sia diverso rispetto a quello che fai adesso. Cioè adesso è molto più attivo probabilmente. È molto più attivo anche perché sono ovviamente più invogliata a fare materiale perché guadagno. Ok. La differenza con Suicide è che praticamente tu mandavi un set fotografico e loro ti dicevano ok, vai bene o non vai bene. Poi è subentrata un'altra cosa che si chiamava Member Review. Quindi tu mandavi il tuo set. Andava online gratis. Quindi ti potevano vedere tutto. E se raggiungeva un tot di voti, allora il tuo set veniva preso. Ma tu davi l'immagine e il tuo set, la tua immagine, quelle 60 foto, per 500 dollari. E basta. Adesso con Suicide puoi fare veramente cifre. Con OnlyFans puoi fare cifre molto molto più alte. I diritti delle foto sono tue. Perché ad esempio alcune Suicide sono venute a mancare. I genitori hanno chiesto la rimozione delle foto e no. Perché Suicide ha i diritti. Quindi adesso la gente si fa le pippe sulle ragazze morte. Assurdo. E penso che si facciano proprio perché sono morte alcuni. Quindi ci sfruttano, capitalizzano sul kink necrofilo della gente. Sì, anche. Ottimo. Minima parte. Però tu rinunci ai tuoi diritti. Con OnlyFans è tutto tuo. È tutto tuo. Ti vendi a quanto vuoi, non a 4,90 dollari al mese. Perché questo era il prezzo di iscrizione a Suicide. Però è stato un ottimo trampolino di lancio nel mio caso. Perché magari se no non avrei mai fatto quello che faccio adesso. E non avrei avuto tutta la fortuna che ho avuto. Giro il mondo, faccio un sacco di cose. E devo principalmente Suicide. Non la chiamerei fortuna. Cioè tu nel senso sei stata una pioniera di questa... Cioè hai preso quel lavoro, quel tipo di lavoro e poi ti sei evoluta nel tempo con le varie piattaforme. Sì, sì, mi sono adattata, tipo tutta forma, a quello che voleva il pubblico in quel momento. Quindi mi stai dicendo che c'è in assoluto OnlyFans, anzi diciamo OF, riformuliamo la frase così se vogliamo ritagliare il pezzettino non ce lo bannano. Il sito bianco e blu. Il sito bianco e blu in assoluto è quello più redditizio tra quelli a cui si stanno. Assolutamente, sì, assolutamente sì. Che ne pensi? Mi viene in mente una cosa, no? Così, molto a caso. Ci stanno polemiche varie, soprattutto in America, perché è molto diffuso il... Non c'ho una lira, mi metto un attimo sul sito bianco e blu, sul sito da Lazio, chiamiamolo perché i colori sono quelli. Metto un attimo sul sito della Lazio e alzo un po' di soldi e magari la gente critica perché dice stai facendo vedere parti del tuo corpo a 5 dollari. Ma ognuno si dà il prezzo che vuole e l'unica cosa è che bisogna pensarci bene, perché quelle foto, quel materiale rimarrà per sempre sul web. Quindi quello che magari fai in un momento che hai bisogno di soldi, poi dopo due anni magari ti si ritorcerà contro. È quello che... Infatti io evito sempre di parlare di quanto guadagno, perché io sono un personaggio e guadagno tot, anche da tutto quello che ho fatto negli anni passati. Magari una ragazza che si iscrive perché dice, ah cavolo, quella guadagna un sacco di soldi, si iscrive, poi magari non guadagna così tanto. Arrivi poi a dire, ok, se faccio questo cerchi di andare sempre oltre e alla fine vai a magari vendere un tuo porno dove ti fai sesso con quattro persone per 30 dollari. Chiaro. Quindi è una scelta che va ponderata. Ed è la stessa cosa che dicevo di Suicide Girl. Certo. Poi c'è proprio quel discorso appunto del discorso che dicevi prima dell'essere troppo extreme a basso prezzo, che poi è una cosa che ti inflaziona. Sì esatto, perché poi una volta che hai fatto tutto in due mesi, la gente non pagherà più perché arriverà quella nuova, più bella, che fa magari anche cose più extreme. Tu per starle dietro farai sempre di più, sempre di più rovinandoti. Io alla fine, la mia fortuna è che faccio solo quello che mi piace. Ok. Ho richieste, tipo io non ho scene con uomini, mi va bene così. È una parte della mia intimità che voglio tenere intima. Ok, ok. E questa infatti secondo me è una cosa, cioè anche saper distinguere, anzi ti faccio la domanda, come trovi un connubio tra la vita professionale che comunque fa prendere quel campo lì e poi la tua vita intima? E soprattutto ti chiedo, non rischi un po' la sindrome del pizzaiolo che fa difficoltà a mangiare la pizza? Vado dal terapeuta. Ok. Perché ho avuto un momento, specialmente con Patreon, perché finché lavoravo con Suicide era tutto filtrato, no? Quindi la gente guardava i miei set, mi scriveva, ma basta io non dovevo accontentare delle richieste, no? Quindi invece con Patreon, più o meno lo stesso mood, ma in più avevo Snapchat. Quindi la gente poteva scrivermi e interagire molto di più. E lì è stata un po' dura. Perché finché hai qualcosa che ti separa dalle persone, dalle richieste dalle persone, hai un certo modo di vivere. Invece poi dici, ma sono tutti così? Ok. E hai una visione un po' strana. E alla fine finisci per non voler più fare sesso. Ok. Sei talmente saturo che dici, no, fatemi un massaggio ai piedi. E anche con quelli non possono fare i soldi, però... Massaggerieri con video, in modo tale che tu vicioni con la palla. Sì, ma tanto ci sono talmente tanti kink. Ad esempio io ho un paio di iscritti che vanno matti per il solletico. E quindi mi faccio fare i video dove mi faccio fare il solletico. Io soffro solletico, quindi loro sono contentissimi. Ok, quindi è bello anche che hai una sorta di customer care verso i kink delle persone. Assolutamente, sì. Metti dei boundaries, cioè ci sanno delle cose che sono flimiti per te. Assolutamente, sì. Ad esempio, tra l'altro OnlyFans ci sono delle cose che proibisce. Tipo il pissing e tutto quello che quel mondo lì toglie direttamente proprio tutto il messaggio che ti ha scritto l'utente. E poi comunque sono cose che non fanno parte di me. Però vabbè, è feticista dei piedi, ma ormai è una cosa proprio sdoganatissima. Gli insulti, video dove gli insulti... Quello sono specialmente slave, che magari vogliono che insulti il loro attributo. Un giorno uno mi ha scritto... Ciao, magari stai guardando la diretta. Uno mi ha scritto chiamami Gloria, perché ho il clitoride così piccolo che mi sento una donna. Ok. E lì devi stare al gioco. Una una volta mi ha detto insulta mia mamma e non ce la facevo. Non ce la facevo. Ho proprio dei blocchi su alcune cose. Però è divertente. Comunque conosci una parte dell'uomo o delle donne, perché comunque ho anche un sacco di donne iscritte. Sì, 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 a parte quelle che mi chiedono consigli, quindi sono delle mie follower che mi sostengono o vogliono interagire con me e io siccome non rispondo quasi mai ai messaggi su Instagram, se ne fregano, mutano, non gli arrivano tutte le notifiche dei mass message, però sì. Figo, figo. Quindi in un certo senso c'è quasi una parte di consulenza per quanto riguarda il mondo femminile. Esatto, sì, sì, sì. E poi in più consulenza anche delle maschile, sono quelli che ti chiedono ma il mio pene va bene, ho problemi con la mia ragazza, oppure quale sex toys possiamo usare, perché io sponsorizzavo sex toys, le mie storie, quindi sono una consumatrice. E quindi mi chiedono consigli su quello. Figo, facciamo una collaborazione di consulenza. Esatto. Potrebbe essere finita. Ok, e a proposito di questo, cioè, c'ho due domande. La prima è la visione dell'uomo che hai. Quanto è condizionale? Perché io immagino, poi correggimi se sbaglio, che comunque stando sempre continuamente in contatto con determinati tipi di richieste e anche con determinati tipi di vibe che un pubblico così maschile può emanare e anche con quel tipo di... che stanno tutti allupati. Eh sì, perché comunque principalmente ti abboni a OnlyFans. Cioè, chi si abboni per chiacchierare? Ho un sacco di abbonati che chiacchierano e passano, sbloccano contenuti. Sono iscritti da due anni, da due anni e mezzo, da quando ho aperto OnlyFans. e altri che invece proprio tipo, la prima cosa che ti chiedono è il video dove fai questo, dove fai quest'altro, come se fossi merce. Ok. Però va bene. Sono tutte e due le cose. E come vedi l'uomo? Cioè, ti capita ogni tanto di dire però è un uomo. Cioè, ti capita di avere questa riconsiderazione della figura maschile. Non te lo chiedo con intento polemico? No, 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 sì, dalle volte dici, mamma mia, però tu veramente nel mondo ti rapporti così? Però poi penso, hai pagato per giocare? Magari è semplicemente un ruolo che vuoi avere nel nostro gioco e poi magari sei la persona più brava e tranquilla del mondo, però magari dici, ah, perché tu sei un altro, faccio questo, faccio quest'altro, ti prendo, ti sbatto. E tu, sì, sì, certo. E' il gioco. E' il gioco. Assolutamente, è più o meno come quando fai l'attrice, devi interpretare i vari ruoli. Sei un po' mamma per alcuni, sei un po' zoccola per altri, sei amica per altri ancora. E' bello. Quindi c'è anche una varietà. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, perché gli americani hanno più una fissa per una cosa, gli italiani più per l'altra. Poi c'è il decrating, che è una cosa divertentissima. Sarebbe, gli uomini mandano la foto del Pippo, non ci censurano, e ti chiedono di dare un voto. Ok, ok. Quindi tu fai proprio sette su dieci. Esattamente, sì, 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 questo è un otto. Poi ovviamente tu capisci dalla persona se, appunto come ti dicevo prima, Gloria è un po' slave, o comunque vuole un po' giocare sul fatto magari di non avere un grande gioiello. E allora dici, no vabbè, questo è uno zero, ma che cosa te ne fai? Ma lo usi solo per pisciare? Ok. Devi capire, già da come si pongono, se ti danno del lei, il gioco è fatto. È sicuramente uno slave. Ho molto educato, ma non credo. Ma perciò è estremamente gentile. O sono i ragazzi che mi danno del lei sull'autobus, no? Sono una di voi? Ho solo vent'anni. Ok, ok. E poi un'altra domanda che ti volevo fare, che in realtà è una domanda che è arrivata oggi, ho messo il box. Che paura. No, in realtà è molto tranquilla e sono stra curioso anch'io, perché ogni tanto mi è passato il pensiero, oddio, ora mi apro il sito della Lazio, che è come, che consigli daresti a un neofito o a una neofita del sito? Allora, vabbè, prima di tutto di pensarci bene e poi di andare gradualmente. Quindi pubblichi prima un po' di foto così, poi un po' di cosa ha e devi tutelarti. Quindi io, ad esempio, ho i miei metodi per tutelarmi, quindi scrivo, che ne so, il nome di chi compra il video, lo scrivo in mezzo alle palle. Così se lo trovo in giro su Telegram, so che se tu ti posso denunciare è così che mi sono comprata la macchina. Però secondo me è una figata. È veramente una figata. È girazione del copyright. Sì, infatti come si gestisce questa cosa, per esempio, degli screen? Cioè se una persona screena su quel sito, che cosa succede? Ti arriva una notifica? No, ma magari. No, è una cosa che dovrebbero fare, impedire di fare gli screenshot. Poi vabbè, ovviamente troveresti il modo. Però, sì no, in realtà salvano e basta, da fatto. E lo mettono online. Ok. Quindi infatti sta nel creator, tutelarsi, magari quando mandi messaggi di massa, quindi quelli che arrivano a tutti, da cui in realtà guadagni molto di più, perché tutti aprono, cioè la maggior parte aprono. Lì mandi dei contenuti che dici, vabbè, oh, se girano, amen, me ne faccio una ragione. È pubblicità al massimo. Esatto, sì. Invece quelli magari un po' più extreme, li vendi sotto. Cioè metti magari una preview nella bacheca, che alla fine è come tipo Facebook. Ok. E quindi dici, ok, tip 200 per avere il video completo. E quindi lo mandi con il nome sopra. Quindi ragazze, prendete nota, anche ragazze, prendete nota perché vi salva un po' il culo. Quindi c'è molto da giocare sul discorso, la roba che metto per tutti, che magari è un po' più vestita, un po' più soft. O che dice, vabbè, se girano, amen. Perché a me è capitato, ad esempio, quando avevo Patreon, di base non mi interessa molto del giudizio altrui, no? Però è arrivato mio padre. Ed era un video, ve le cavo un video. Ok. E penso che sia l'unica volta, in 15 anni, che mi ha fatto veramente male sentire mio padre che mi diceva riadimi che ti hanno hackerato il telefono e che non è cosa... Lo sai, è il mio lavoro. È il lavoro. È il lavoro. Però lì è stata l'unica volta che mi ha fatto male. Se no, vedo nei gruppi Telegram, Whatsapp. E lui era arrivato via Whatsapp, gli aveva mandato un suo amico. Ma guarda Ria! Quindi c'è stato un suo amico che ha detto che manderò il video della figlia che le ha candido. C'ha avuto questa idea geniale. Simpatica. Esatto. Ma tanto, lo sai benissimo che lavoro... Cioè, sembrava più che altro per mettere in difficoltà mio padre. Sì, sì, sì. Assolutamente. Cioè, è una cosa un po' satica. Quello è stato l'unico momento brutto. Poi il resto... E come... Non voglio dirlo con intento giudicante, ovviamente, però... Questa è la seconda volta che dici non voglio dirlo con intento giudicante. No, no, no. Però seriamente, perché magari questo tipo di domanda te l'hanno già fatta. Però voglio capire anche in che contesto... Cioè, come è stata presa questo tuo lavoro nel tuo contesto. Non perché ci sia qualcosa... Dei miei genitori dici? Sì, sì, sì. Allora, mio padre, che in realtà non è mio padre biologico, è comunque l'uomo che mi ha cresciuto, quindi è mio padre. Lui è super aperto mentalmente. Quindi, quando ho iniziato con Suicide, loro ti pagavano con l'assegno e non ce l'avevo il conto in banca. E quindi ho detto, guarda, mi puoi cambiare questi soldi? Perché, sai, sto facendo la modella per un sito dove faccio topless. Vabbè, ok, vita tua. Va bene. Poi non è che erano tipo 2000 euro all'anno. Non era proprio niente. E finché una volta... Ti ricordi... No, sei troppo giovane. C'era una TV che si chiama Current. No, no. Un canale di Sky. Ok. E mi intervistano... No, non ho mai avuto Sky. Non è che so giovane, è che so povero. Questo è il problema. E praticamente mi aveva intervistato e durante questa intervista facevo il set fotografico per Suicide. E quindi... Era nuda. Mio padre quel periodo va in fissa con quel canale perché era tipo contro Berlusconi. Ok. Mio padre è anti-berlusconiano, proprio alla grande. E facevamo tutti i servizi contro di lui. Era un canale molto figo. Era un canale italiano che poi è stato spostato in America e in Italia non ha avuto molto successo. E quindi lui guardava questo canale in continuazione e dicevo, beh, mi avvertiranno quando va online, quando va in onda. Va un giorno in onda. Cerco di sviare mio padre da guadalare. Mi salva a cena, tipo. Esatto. Era alle 8. Tipo, no, dai, poi cambia, metti il telegiornale. Ok, così. Un giorno, due giorni. E poi hanno incominciato a darlo praticamente tutti i giorni a tutte le ore a fare sto set, sto documentario. Finché un giorno ritorno da lavoro perché facevo la barista e mio padre stava guardando me a pecora su un divano. Ok, quello che faccio è la tua vita. Bella però. Se sei contenta e non hai paura di pentirti, fai quello che vuoi. Mia mamma ci ha messo un po' di più. Mia mamma abbiamo fatto un video su YouTube quando ancora avevo voglia di caricare i miei video su YouTube in cui facevamo un'intervista. Io intervistavo mio padre e mia madre e mia madre non era voluta uscire nel video. Cioè, c'era solo l'audio ma non si vedeva. Quindi, lei ha sempre preso un po' le distanze. Ma finché ho fatto solo le foto, anche le riviste e i tatuaggi dicevo sì, però sei sempre qui con le tette di fuori. Finché non ho fatto il video magnifico di Fedez secoli fa e allora lì basta. Sono diventata ok. Diceva beh, però ce l'hai fatta. Esatto, perché facevo tutti i video musicali le cose quindi poi alla fine adesso, anzi, mi difende anche se qualcuno ha qualcosa da ridire diventa subito la lionessa. Però è stata un po' dura. Mio padre invece è proprio easy. No, ma poi la tua è una scelta assolutamente responsabile, no? Cioè, c'hai anche un sacco di consapevolezza ovviamente con tutta l'esperienza quindi è una cosa poi ovviamente figuriamoci se io mi metto a giudicare la rispettabilità di un lavoro del genere. Alla fine però è curioso cioè mi piace un sacco potermi confrontare con te perché c'è proprio un dibattito molto grande su sta cosa, no? C'è molto il il sex working nel momento in cui è andato online c'è molto questo giudizio e dice eh no, quella persona mette i nudini online Ma tanto lo facciamo sempre gratis Sì, tanto Ma andiamo i nudini a gente che non se lo merita non monetizziamo Infatti dovevo chiedere Io ho sprecato tanti di quei buongiorno amore tutta nuda che guarda sono 100.000 euro Infatti dovevo chiedere come te la vivi la cosa del nudino? Cioè lo mandi Al mio ragazzo dici? Sì, sì, sì No, lui è ormai immune Dici Non lo Non lo Ma amore ma questo l'hai riciclato No, è lì No, perché? Scusa No, è il tuo esclusivo Da messi 4.000 euro Sbrigate pure Esatto, perché ogni tanto mi fa Guarda, bellissimo il video Ma sei sicura che non l'hai fatto per OliFans? Prima l'hai mandata a me No, sono per te Allora devo fare come i custom che devo dire il suo nome all'inizio e in mezzo Metti il nome No, no, proprio lo devo dire Ah, ok Dico in mezzo così dici Vabbè, almeno non lo taglia non taglia all'inizio Ok, ok E infatti lui come lo prende? Il tuo ragazzo? Ah, allora No, lui è super tranquillo su questa cosa Inizialmente me la vivevo male io Dicevo, no, ma si vergogna Non accetto In realtà è abbastanza aperto Cioè, è aperto Porto i soldi a casa Ok Ok, chiaro Ok Quindi è contento Più che ha aperto è contento Esatto, è molto contento Però bello il fatto che cioè che lui abbia detto ma si anche accompagni magari del discorso economico abbia detto l'accetto Fine Sì, sì Allora io quando l'ho conosciuto lui non sapeva che io fossi e in più non sapeva cosa era OliFans Bellissimo È stato bellissimo Quindi hai proprio insegnato gli hai aperto il profilo e hai detto guarda, è questo Esatto, faccio questo guarda che troverai questo quest'altro la gente dirà questo, questo, quest'altro Però lui è abbastanza cioè si fida nel senso che molto spesso è lui che mi dice guarda dovresti collaborare con questa ragazza con quest'altra e ovviamente mi dà fastidio fargli vedere alcuni contenuti per una cosa mia Ok Però sì, sì sostiene sostiene deve anche sopportare le mie ramentele il mio questo mese è andata così e devo fare questa cosa perché comunque ora lo so che per tantissime persone è semplicemente mettere le tue foto nuda su internet ma è è un lavoro ma assolutamente sì io praticamente mi alzo e inizio a rispondere io non ho un'agenzia ok quindi faccio tutto io perché c'è chi ha l'agenzia quindi c'è chi risponde al posto tuo eh no ma infatti questa cosa era nata tipo una diatriba che c'era praticamente venivano viste male le content creator che facevano rispondere altre persone quindi tu sei super cioè quando tu rispondi su quel sito sei tu esatto perché comunque la gente paga non paga per parlare con Gianfranco paga per per parlare con me infatti io quando loro si iscrivono mi piacere guarda ci metto un po' di più a rispondere perché sono io a rispondere quindi magari capita che ho la giornata piena e rispondo la sera però si rispondo io infatti alcuni si beccano le sfuriate alcuni si beccano i vaffanculo perché magari se sei male educato con me io ti mando a quel paese certo quindi cerco di rimetterli sempre un po' in regia quindi tu c'è una sorta di schedule durante la giornata in cui a un certo punto ti dedichi proprio alle risposte esatto io mi alzo la mattina e passo un'ora nel letto a rispondere e a mandare il buongiorno quindi ho degli abbonati fedeli e loro si beccano il buongiorno tipo buongiorno Mauro buongiorno Jeremy e queste cose qua poi ho colazione colazione al bar che io non rinuncio saluto il mio dietologo e poi via di contenuti quindi ho i contenuti normali contenuti poi custom quindi quelli che mi chiedono in particolare e poi rispondere 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 tutto il giorno finché non vado a dormire ok quindi è proprio un lavoro full full non hai domenica non hai festivi non hai niente perché comunque devi postare ogni giorno e poi in più devi fare contenuti per Instagram vabbè quelli però sono più easy e devi esserci e devi anche promuoverlo che è difficilissimo perché Instagram odia ho le fans odia le sex worker e quindi devi trovare tutti di scamotage di promuovere sì infatti credo adesso l'iter da quello che un po' ho provato a studiare anche perché mi interessano queste cose poi essendo del settore pure a me mi bannano perché io faccio divulgazione quindi figuriamoci poi non so perché a Mark non piace il sesso vabbè hai visto sua moglie ok capiamo capiamo l'hai detto l'hai detto hai fatto capire che cosa c'è dietro io non posso aggiungere altro comunque Mark ciao grazie di seguirci tua moglie è carina dabbene non avrai capezzole probabilmente li vede su Instagram e dice no non è ma perché c'hanno queste banniamole comunque quindi c'è tipo un iter che è cercare di mandare la gente il link in bio poi dal link in bio vanno lì anche il link in bio ormai il link tree allora non puoi mettere oli fans perché te lo bannano subito quindi anche il link tree adesso è segnalato infatti adesso ho schiavizzato il mio ragazzo che mi ha fatto il sito quindi è Riae online con tutti i link però anche quello tempo un mese segnaleranno per pornografia qua fanno una domanda oddio paura a parte mi chiedono a me se sono abbonato all'OF di Riae no poi racconterò l'unica volta in cui sono stato abbonato è una storia un po' particolare è per sbaglio come dicono tutti come si trovano il coso della carta di credito per dirlo a moglie ma per sbaglio no no non è stato così per sbaglio però c'è stato poi te lo racconto e lui giustamente si chiede giustamente fino a un certo punto secondo me ma se chiedo un contenuto lo chiedo quando già sto col pipo in mano non ci rimango male se me lo mandi otto ore dopo e io la risposta che do poi voglio sentire anche la tua è otto ore dopo c'è già la nuova carica cioè quando vedi la notifica che ti è arrivato il contenuto sei già carico e contento secondo me esatto sì dai in otto ore si alza e si abbassa non c'è problema il periodo rifrattario ce ne fai 6-7 anche perché io solitamente faccio aspettare più o meno un giorno ok per avere tutto il tempo di prepararmi poi ovviamente quelli che ti chiedono le cose tipo tarantino alcuni ti scrivono delle robe no perché vorrei che camminassi così con la scarpa cosa? poi sposti il vestito poi mi dici che sono bello quindi ti danno proprio uno script sì sì e quindi poi fai questo poi non so se tu sai tipo le varie categorie sai che cos'è un joy? no sono molto sono molto ignorante perché poi ti dirò perché infatti poi ti voglio fare una domanda correlata a questa è una cosa molto bella che è super sessuale io la trovo molto più sensuale e sexy del nudo della masturbazione normale e sono le istruzioni per masturbarsi quindi io ti dico fai su e giù è un po' sta tutto nella voce adesso fai su e giù con la mano piano ho detto piano e quello va un casino ok sia in italiano che in inglese vanno tantissimo quindi c'è Riai che guida una persona nel tuo caso esatto quindi ho il mio ho un dildo che è squirta ok e iacula ok e quindi per dieci minuti quindici minuti io ti dico voilà dieci quindici minuti se ne fanno tre però imparano proprio se lo vedono in più parti esatto però ti do le istruzioni con una voce molto sensuale piano e piace è una delle cose che vendo di più che da soddisfazione perché rimango svestita sì ma secondo me è anche divulgativo cioè se è fatto con cognizioni di causa secondo me sì sì è la prima volta che me l'hanno detto che cosa è allora sono un po' no ho cercato ce ne sono tantissime che lo fanno però però comprate il mio che è più bello è per voi il suo è bellissimo è fatto su misura ok e tipo la domanda che volevo farti è reddit in Italia com'è cioè l'hai mai usato non l'ho mai usato e vorrei imparare perché ho parlato con una ragazza che tra l'altro è stata intervistata da poco alle Iene Meddi e lei sta anche su reddit buona parte dei suoi abbonati viene da reddit perché ti dico io uso reddit l'ho detto anche l'altro giorno in un'altra live cioè io non non uso siti porno non uso è il sito della Lazio però uso reddit perché è molto funziona più come magari un sito porno che cerchi la il thread in cui c'è la categoria che magari quel giorno fa parte della tua fantasia eccetera però ci sono proprio le praticamente tipo delle sezioni cioè r slash o f in cui ci stanno le persone che mettono delle anteprime lì oppure anche dei video free e poi avventi tu vedi magari quella persona lì dici oh ammazza questa così tutto quanto e poi vai a finire sul suo sito quindi credo sia tipo una sorta di ponte molto libero rispetto ad altri social che aiuta infatti lei mi diceva che la maggior parte dei suoi abbonati viene da lì perché comunque poi su Instagram non puoi promuoverti e poi comunque la maggior parte delle persone gli americani soprattutto usano Reddit gli italiani non tantissimo no 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 non tanto e infatti lei mi diceva che passa due ore al giorno a promuoversi sui vari gruppi quindi se lì si iscrive di mandare la foto con il foglio bla 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 per poter postare sì credo per la verifica su quella esatto è un buon modo sì 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 infatti volevo volevo provare sì però possiamo fare delle giornate 36 ore però perché se no è un casino sì sì però te lo consiglio perché vedo proprio le persone cioè io vedo magari le creator che postano su ogni tipo di categoria perché magari non rientra sì tatuaggi capelli blu capelli colorati lei ad esempio ha un seno molto abbondante naturale quindi penso che vada in quelle categorie lì no no mi ha detto che è super perché in Italia io non l'ho visto tanto diffuso non va molto comunque ti racconto la mia esperienza con OF il mio contatto il mio primo primo e credo unico abbonamento se non sbaglio che ero in quarantena ok che è proprio il primo lockdown quello potente e c'avevo una bottiglia di genziana fatta in casa e quindi bevevo un bicchierino la sera una sera me ne sono fatti tanti non ricordo quanto tra l'altro abbiamo avuto un lockdown tremendo in Svizzera molto più sì 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 tipo da marzo a giugno che era una cosa del genere a troppo da marzo a troppo sì una cosa una cosa allucinante e una sera al bicchierino di genziana per rilassarmi sono diventato i dodici e la mattina dopo mi sveglio con la notifica della banca che tipo 30 euro di abbonamento perché era andata non era la mia cosa di più era andata a pescare Naomi Woods non so se ce l'hai presente no è una biondina che girava nel mondo a luci rosse e molto carina è solo che quel giorno non so come ci sono andata a finire perché io a quei tempi utilizzavo ancora la pornografia e avevo cercato lei però era andata a finire là e il giorno dopo poi ho aperto il profilo e ho detto però vabbè però l'hai sfruttato quei 30 giorni quei 30 giorni sono stati bellissimi però è stata una cosa non ero molto consenziente capisci ero molto distorto mi sono sentito manipolato da no che tra l'altro un sacco di attrici porno hanno anche OnlyFans perché in realtà nel porno non guadagni praticamente niente non ne vale la pena cioè non ne vale la pena se vuoi farti un nome però non guadagni tanto a scena gli uomini guadagnano ancora meno mi immagino ci sia il discorso proprio della vicinanza che uno sente e anche dell'esclusività esatto infatti custom comunque chiacchierare anche solo supportare però è figa questa cosa del poter parlare con un content creator no perché ovviamente su Instagram a un certo punto ti scazzi sì non guardi più i DM io non guardo ogni tanto guardo nelle richieste se c'è qualcuno che mi fa ridere rispondo posso accogli e no non è vero tantissimi sono molto simpatici scelgo proprio quelle che mi fanno ridere e ci chiacchiero però sì HolyFans ti dà la possibilità di poter chiacchierare con il tuo creator infatti non c'è solamente erotico o porno su HolyFans ci sono tantissimi creator normali persone che fanno cucina cantanti e loro sono penalizzati anche per esempio un cuoco apre OF e lo promuove su Instagram tutti vanno a pensare sì vabbè questo fa vedere la zucchina oltre che oltre che tagliarla esatto c'è il pregiudizio perché purtroppo non è vista come una piattaforma di vendita di contenuti di tutti i tipi e comunque credo Patreon abbia preso questo ruolo Patreon era nato per i disegnatori e per i videomaker per poter finanziare i loro progetti poi siamo arrivate noi abbiamo rovinato tutto la carica degli unni e lì hanno dovuto prendere meno soldi ma più clean perché io ad esempio ero stata bannata loro mi controllavano erano arrivati a controllarmi i messaggi privati madonna perché mandavo le cartelle Dropbox e mi avevano bloccato per pornografia non potevo avevo fatto un set con una ragazza americana da Isa era quella che forse l'hai vista lei aveva praticamente un polpo tatuato sul culo ma che usciva dal buco ok tipo così no non l'ho mai vista era famosa tipo qualche anno fa adesso penso che abbiano tolto l'account e avevo fatto delle foto con lei dove la baciavo e Patreon me le aveva tolte era solo un bacetto ed era bacio sì eravamo vestite e lì ho capito ok no perché io ero dell'idea ok tutti i miei contenuti su un solo portale tipo non mi ricordo come si chiama la creatrice di contenuti quella che fa tipo più di un milione e mezzo al mese a Murat fa anche Twitch tipo lei sta su qualunque sta su qualunque piattaforma ah fa proprio ok esatto invece la mia cosa era ok ho tutto su Patreon non mi sposto su OnlyFans poi appena ho visto che mi bloccavano tutto sono passata a OnlyFans in che anno? era il 2019 ok non tantissimo sono stata proprio fedele a Patreon che mi prendeva a calci in culo mi bloccava le cose mi bloccava i pagamenti e io ce l'ho avuto un mesetto Patreon poi ho capito che lo dovrei prendere in un altro modo è difficile i pledge tutto quanto comunque devi dare a quelli base un tot con gli altri un po' di più un po' di più ma io facevo un livello solo proprio da pippa no non vai però nessuno ti può dare le mance le mance tipo per la cultura americana sono importantissime l'italiano non lo fa volentieri ma proprio perché non siamo abituati l'americano tu posti una foto lui dici ah bella questa foto 5 dollari di mancia così ma non vuole niente vuole solamente farti vedere che gli piace quella cosa sì sì tant'è che Patreon in Italia è molto poco cioè a meno che non sia per determinati tipi di contenuti però è molto poco cioè io lo vedo anche nell'ambito più mio no cioè la gente dice ma io ti seguo su TikTok su Instagram ma a me Patreon che me frega eh però dei contenuti che non trovi sugli altri social ad esempio io sono iscritta a un podcast io amo il crime ok è la mia droga io non ascolto neanche più musica ascolto morti ammazzati e basta e pure io con Amanda abbiamo la pizza per Booker of Madness gli facciamo le props perché se le meritano sì sono fantastiche io sono andata a sentirle a Padova o a Pavia non mi ricordo un po' se inizia con la P dal vivo non sono iscritta al loro Patreon ma anche loro ce l'hanno sì sì e sono iscritta a Crime and Comedy che è un altro podcast di crime e anche lì loro hanno i vari livelli il primo non mi ricordo io sono tipo i bristofili che sono quelli che hanno la passione per essere il killer in realtà l'ibristofilo è quello che è proprio la passione sessuale per il carcerato il killer e poi hanno un altro pledge tipo quella che si è sposata Charles Manson sì esatto era riuscita anche a farci un figlio non lo so non ho seguito la vicenda più di tanto comunque si si chiamano i bristofili quelli che hanno il kink dei malviventi hai visto il nuovo ragazzo di Emily Ratajkowski è uscito stamattina è Gamberetto è quello di come si chiama Eric Andre credo mi sa che è quello che faceva My name is Earl sì è Gamberetto è lui è lui è lui è lui mamma mia non c'è non c'è speranza nessuno è salva infatti è stato molto bello quello che hai detto l'altro giorno nelle storie che hai detto vabbè Megan Fox se anche lei viene cornificata ma essere belle non salva non ci tutela no 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 assolutamente quando si trovi quello che ha bisogno di confermi altrove puoi essere bellissima quanto vuoi anche brava quanto vuoi niente inciampa sempre nelle vagini altrui sì 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 c'erano dei video che giravano sui vari social e facevano vedi tipo l'attrice la modella bellissima il ragazzo che era un po' così e dicevano lui l'ha tradita eh come come Emily sì tutti quando l'abbiamo visto il mondo maschile ha detto però Emily se voi scriviamo a me e non ho controllato i DM e lui e lui ha fatto pure il city boy è incredibile eh ma perché così penso che sia tutta una questione di sicurezza altrimenti di non farsi scappare le chance con le altre e credo che poi poi io sono pazza gelosa quindi va bene credo che poi un altro fattore sia mettersi con una persona di quel tipo di caratura sia a livello di magica a livello di bellezza ti dia anche automaticamente ti crei anche l'opportunità che tantissime persone ti scrivono sì ti scopano per riflesso sì 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 perché sono riuscito a rubare esatto mi faccio il ragazzo di quella che è molto figa perché allora vuol dire che se lui ha preferito me allora sono più figa però vabbè in realtà cioè no in realtà non è questo che funziona gli facevi un attimo sangue esatto qua ti chiedono c'è un'esperienza che hai fatto ma che non rifaresti il gay ambito sessuale penso sì sì suppongo sì in ambito sia sessuale che di lavoro o di lavoro ma in realtà non faccio sempre tutto quello che voglio non faccio mai niente di forzato quindi di base non c'è qualcosa di cui mi sono pentita magari aver dato tutto per suicide che è la cosa che mi dicevi prima esatto all'inizio quindi ho fatto tanto gratis comunque su tumblr veramente c'era di tutto e adesso dico ok magari se avessi se fossi stata un po' più attenta perché tantissime ragazze che hanno fatto suicide non hanno mai fatto vedere la patata e magari avrei sarei riuscita a fare più adesso però va benissimo dal punto di vista sessuale no tutto il posto una cosa che ho notato che secondo me è molto molto bella è che c'è una una grande sorrellanza o fratelli con le altre ragazze con le altre content creator e assolutamente anche infatti noi ci postiamo nelle storie e tutto quanto e facciamo collaborazioni tra di noi anche perché instagram non ti aiuta a crescere tra shadow ban e tutto quanto quindi ragazze più o meno dello stesso livello con il stesso numero di fans ci scambiamo sì e poi pure il discorso cioè a me fa volare i featuring ti dico una conversazione che ho avuto con mio cugino del canada che si chiama mike che saluto giorni fa hai postato una foto con Alex Mucci giusto e ho visto che lui ha messo like allora gli ho mandato una cosa e ho detto non ti perde la puntata lui un pochino l'italiano lo capisce ho detto non ti perde la puntata perché farò una puntata coreale e lui mi ha detto sì la conosco però sono super fan di Alex Mucci e così è e quindi è fighissima questa cosa che ci sanno i featuring come nelle canzoni delle content creator poi vabbè io e Alex siamo amiche siamo andati in vacanza insieme a Mykonos abbiamo fatto contenuti insieme perché comunque anche lei è molto forte tra l'altro per aver iniziato poco tempo fa poi io la stimo proprio come persona lei quando ha iniziato a cantare lei ha deciso di cantare per la cantante e per anni ha pubblicato solo foto e video in cui non parlava così che ci fa per tenere alto l'hype della sua voce per far uscire il suo primo pezzo che è stato prodotto dal Jake La Furia mi sa e poi in generale spaziale non lo diresti mai no? i pregiudizi le cose è una persona super quindi oltre il featuring commerciale diciamo è proprio è una mia amica è pure un'opportunità di sì sì figo fighissimo e quanto hating hai? un sacco un sacco e infatti ci sono dei giorni in cui so a terra di base il mio follower è gentile carino ma delle volte non so si svegliano col piede storto e offendono però sì ce n'è ce n'è abbastanza per quanto io posso provare ad essere un personaggio positivo ad esempio io con YouTube ho smesso perché io abituo tutta la mia fetta di follower no? quindi quelli che mi seguono perché ti piacciono determinati tipi di contenuti YouTube ti spara a caso nei suggeriti delle persone che mi offendevano e quindi a un certo punto ho tolto tutti i video non ero pronta a un pubblico diverso da quello che era il mio chiaro però adesso ad esempio la foto con Alex Mucci in realtà tutte le foto che sto postando ultimamente dove faccio dove sono scoperta coperta e in giro quelle mi stanno stanno creando molto hating per il discorso prima mi dicevi il fatto che la gente dice oddio passa e ti vede un bambino esatto io vorrei dire questa cosa che nessuno si accorge per 30 secondi che stai con una maglietta trasparente e anche perché sono tutti presi dal cellulare lo fai a orari in cui non ci sono bambini perché poi in realtà al bambino non gliele frega niente più magari la mamma che fa il bambino dice ok come al mare poi vabbè io ho un'idea della sessualità e del nudo che magari è diverso dalla pudicità che può avere un'altra persona ad esempio io e i miei siamo andati sempre alla speggia nudista io vado alla speggia nudista abbiamo sempre tenuto tutte le porte aperte quindi un corpo nudo non è un problema per altri sì anche magari nel contesto in cui sei cresciuto e quindi vabbè quello sì però è veramente un attimo tolgo il giacchetto 30 secondi di foto fatto sì perché diciamolo c'è il giacchetto sopra per tutto il tempo non è che lei esce e va in giro con la magliettata e fa 4 ore di shopping e poi a un certo punto dici oh ma faccio una foto esatto è semplicemente per fare quel contenuto ma infatti io non capisco lo stesso vestito la foto fatta dentro casa è ok e poi in più c'è un'altra cosa la gente che ti rompe le scatole dicendo eh ma questa roba è su Instagram non ci può stare è dentro le linee guida sono coperta e tra come ti dicevo è più problematico una foto in lingerie dove si vede la chiappa che dove si vede il seno coperto da una rete da una magliettina e però si la gente no in casa va bene ma no e poi la foto su Instagram cioè comunque a 13 anni ti puoi scrivere su Instagram a 13 anni ti sei fatto tutte le seghe del mondo su tutte le categorie su Pornob quindi testimono e se ora non so se tu sai quale è la media di quando vanno su Pornob da piccoli sì penso siamo su sì i primi approcci no secondo me più verso i 12-13 secondo me alle medie cominciano le prime chiacchiere poi forse parlo quando ci andavo io alle medie io probabilmente io ho avuto un po' un approccio precoce a questo tipo di mondo a 9 anni però mi ricordo che in media i miei coetanei poi ce l'avevano avevi tipo già il cellulare potevi accedere a a me è successa una cosa stranissima tipo stavo c'era la mia babysitter c'era il figlio che tipo una volta siamo rimasti in camera con lui perché eravamo diventati amichetti lui c'era tipo tre anni più di me quindi lui era già ferrato è aperto Flash Games con la roba a sozza quindi il mio primo contatto degli entai mi ricordo che sentivo questo fuoco dentro ho detto oddio ma che è sta roba settettone tentacoli bellissimo e sono ritornato a casa e lo guardavo ho fatto vedere a tutti i compagni di scuola e tutto quanto quindi è colpa tua se vai iniziare ad ammazzarsi sì esattamente sono stato il mio lavoro ante intera esatto hai fatto una specie di consulenza anche lì sì e qui chiedono a parte come si chiama sui gilet riae underscore esatto ricordatevi underscore perché sono in shadowban e quindi non mi si trova trovate tutti gli altri fake e le fanpage senza l'underscore no discorso hating io per esempio ho un po' il rapporto di ci ho lavorato molto su riesci lo tolleri ti dico allora sono partito che ce l'ho sempre avuto poco però ovviamente più cresci ma non è che ho tutti questi grandi numeri però più cresci più arrivano soprattutto cioè a me la cosa che fa ride è che io parlo di una determinata tematica che ha dei fondamenti scientifici quindi tendenzialmente se dico una cosa a volte può essere un'opinione altre volte è una cosa dettata dalla scienza quindi se una patata funziona così è quello punto e la gente mi dice no tu non capisci un cazzo perché in realtà è così oppure mi dicono la cosa che mi fa più idea tu non hai una vagina quindi non puoi sapere che cosa ma so come funziona non sono una macchina cioè se un meccanico non è una macchina ma so come funziona esattamente non è che andavi da Stephen Hogan che gli dicevi deficiente Tembuco Nero non l'hai mai visto cioè non lo faceva nessuno quindi è lo stesso concetto però la cosa che ho imparato di più è che i video copiating che faccio i post copiating sono quelli che hanno più numeri e che mi hanno fatto arrivare più follower cioè è come se ci fosse una proporzione tanto hating tantissimi follower ma quello che ti fa più visualizzazione e più engagement è l'hater l'hater che controlla mille volte al giorno la tua pagina ti commenta sono gruppi alla fine esatto ti commenta e quindi sì che loro portano più o meno oggi uno mi ha scritto ho pubblicato appunto il discorso del nuovo fidanzato di Amiliera Tegoschi e lui mi ha scritto ah condividi le cose come se fossi donne che fanno gossip dalla parrucchiera cazzo si e ne vado fiero cioè porco tu io voglio parlare cioè io sono fissi io mi vado a vedere tutte le foto di Fabio Caressa con la parodi perché sono la mia coppia preferita e non me ne frega niente anche a me il gossip piace tantissimo sì ma è bellissimo e secondo me è giusto proprio fare un connubio dal punto di vista scientifico alle cose che ci abbiamo più in contatto tutti i giorni esatto anche perché comunque poi sono cose che capitano anche magari alla nostra amica cioè come essere tradita una figa imperiale ma essere tradita o cambiare ragazzo e sceglierne uno magari che non ti aspetteresti lei usciva anche con l'ex di quello che si fa tutte quelle che si lasciano Pete Davidson lui si fa tutte quelle che si lasciano lui è incredibile infatti era già lì dietro che aspettava Megan Fox ma ho visto che erano in terapia insieme lei e Machine Gun Kelly tipo ieri uscivano da un terapista vabbè ci stanno a lavorare esatto secondo me l'ho presa a cuore sì perché alla fine sono una bella coppia sì un po' toxic ma bella però li vedi insieme e dici ok si può fare secondo me sono usciti bene come coppia però magari ci saranno Megan e Machine Gun Kelly se volete mi scrivete pesca in DM e la risolviamo questa crisi di coppia comunque comunque sì secondo me mi dicevi torniamo sul discorso terapeuta che ne abbiamo parlato e perché spesso nel podcast esce e io ci tengo un sacco a divulgare in questo senso quanto è una cosa utile per te quanto ti ha dato ma tantissimo allora io vado dal terapeuta che si occupa della mia sessualità quando sono veramente satura anzi anche un po' prima e poi vado dallo psicologo ok sono due cose diverse quindi c'hai sessuologo e psicologo esatto ok esatto sì 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 e sessuologo mi serve quando sono piena quando mi fa schifo tutto dico no no non è possibile che la gente pensi così cosa o anche per rivalutare la mia sessualità perché poi magari dici ti chiedono delle robe assurde delle volte tu dici ma io sono così basic ma io sono così vanilla ma io sono così standard che non mi infilo sei cose contemporaneamente in tutti i miei buchi è difficile lavorare col sesso mi immagino cioè io ci lavoro ma in un ambito totalmente diverso no 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 ma magari anche tu che ne so con qualcuno che ti chiede una consulenza poi tu dici ma io sono più normale ma io questa cosa non la fai ma non lo so eh però io cioè il fatto la cosa che mi salva è che a me è tutta una cosa per esempio prima il discorso ma anche questa cosa che tu dici no e ti scombusola e dici sono così vanilla che non mi riesco a infilare le cose perché non è una cosa tua no? cioè non è una cosa che tu normalmente senti mentre è una fantasia di quella persona che dice provo a pagare questa content creator affinché faccia questo però non è detto che matchino le cose cioè io penso che sia un problema di quella persona che si deve andare a cercare una content creator che fa normalmente queste cose sì esatto no no infatti io quello che dico guarda io mi spingo fino a questa cosa qua ma anche semplicemente nella normalità mi chiedono delle cose che sono normali però dico soprattutto quando magari facciamo sexting un'altra cosa che offro e anche lui scrivono delle robe che poi magari le riutilizzo poi magari mi danno lo spunto per cosa fare a letto quindi da questo punto di vista li ringrazio anche ti posso fare una domanda cioè quando ti capita di fare questi scambi magari il sexting e cose così cioè c'è un coinvolgimento anche della tua sessualità oppure ok quindi è anche una cosa che ti attiva e non c'è sì assolutamente se no non lo farei sarebbe una roba meccanica tipo oh sì adesso mi metti così mi faccio cos'è e invece no alcuni alcuni sono bravissimi figo altri hanno il pregiudizio dico no guarda non riesco a eccitarmi scrivendo è un peccato no perché sai io solamente la videochiamata o la chiamata è cosa che io non faccio al massimo ti mando un audio però no non mi piace quella parte lì però altri sono veramente bravi figo molto figo e c'è da capire che comunque la fantasia la richiesta della persona ha molto a che fa con quella persona e poco con noi no cioè questa secondo me è una cosa perché spesso magari uno la può prendere come un'umiliazione no o un qualcosa che cioè il paradosso è ti riesce magari più facile immagino il discorso di offendere una persona di cioè il clitoride piuttosto che magari prendere una parte più submissive con altre che dici oddio mi sta oggettificando troppo in realtà fa parte sempre la stessa no io alla fine sono entrambe le cose posso stare mistress slave sei switch esatto anche se in realtà le persone pensano che io sia più più mistress non so probabilmente per il look ma io sono più nella vita normale sono sub ok però mi piace un sacco insultarli cioè delle volte e allora sei switch con te così sub ma lì perché ho una non sono a faccia a faccia perché dal vivo sono molto dolce quindi non ci riuscirei mai ma quando devo scrivere o quando devo mandare i vocali quando mi riascolto delle volte dico mamma mia magari ti riempie pure un po' al culo dici oggi è una giornata storta perfetto perfetto allora delle volte che sono molto arrabbiata io ho proprio la lista su only puoi fare le liste no? tipo quindi io slave quando sono molto incazzata che magari mi va male qualcosa nella giornata io gli mando l'audio così neanche da sbloccare ti insulto così perché ci voglia insultarti allora sono molto contenta è un regalino che faccio comodo comodissimo ma faccio pure la lista no scherzo rispetto per chi per chiunque abbia questo kink però bello molto bello cioè vedo che che comunque cioè è anche una cosa che senti molto non è un lavoro da cui sei distaccato e dici faccio questo perché devo lavorare immagino ci sia quella parte però anche una cosa ma no io sono proprio presa infatti il mio problema delle volte è quello che sono talmente presa da questo che magari mi porto mi porto a casa i problemi che ho lì devo imparare un po' a staccare perché io tipo ad esempio ho le notifiche attaccate quindi tutto il tempo qua se qualcuno mi iscrive io vedo subito e quello è un po' così invece facendo qualcosa di importante o di serio vorrei leccare le palle no scusa stai al bar a piatto e capa sì sì un secondo adesso e delle volte mi capita loro devono avvertire prima di mandarmi una dick pic ovviamente però delle volte mi è capitato perché poi te la blerra quindi non sai che cos'è sorpresa è un pisello non è la foto del cane che ti aveva detto magari sono al bar a fare colazione oppure una volta ho fatto tutto un viaggio in treno a mandare tutti i contenuti nessuno pensa a guardare mai dietro e tu vedi tutto quello che succede nel telefono e niente quindi il tipo ha avuto tutto il mio OnlyFans l'hai ritrovato iscritto subito dopo ciao sono un ragazzo a treno stavo seduto dietro le preview mi sono piaciute molto ti capisco in questo senso perché pure a me capita nella parte più teorica di portarmi certe volte di pensare ok questa cosa è questo ovviamente non tanto nell'atto sessuale però più sulla sessualità e non è un lavoro facile quello di cercare di distinguere poi per quanto riguarda i professionisti psicologi che siano sessuologi cercare di togliersi quel filtro per guardare la nostra vita oltre a quella lavorativa a volte può essere complicato quindi mi immagino non faccio fatica ad immaginare quello che poi vive te a livello dovrei fare con me lo psicologo che devi andare allo psicologo sì sì e io infatti ce vado ho psicologo il consulente sessuale tutti è giusto così sì lo metti nel cosa spese sì vediamo un po' faccio una domandina allora cosa ne pensi di come stiamo anche perché hai vissuto per 16 anni stai vivendo 16 anni questo tipo di aspetti questo tipo di lavoro hai visto un progresso nella mentalità dell'italiano ah sì assolutamente ah che bello direi che il sex working è più sdoganato c'è ancora dell'astio specialmente verso le donne perché comunque ad alcune persone dà fastidio il fatto che una donna possa guadagnare il proprio corpo poi quelle cifre quelle cifre di cui si parla ancora di più uno dice ma io scusami mi sveglierei 5 del mattino vado in fabbrica mi faccio il culo e questa fa vedere le tette 5 minuti e fa quello che guadagnerei in un anno è un discorso che è comprensibile è frustrazione non credo sia comprensibile perché comunque tu scegli tutti i giorni di alzarti la mattina a mettere il tuo corpo ma sicuramente magari se avessero una vagina farebbe la stessa cosa che farei io poi bisogna vedere perché secondo me è una cosa cioè è proprio una scelta tu decidi di lavorare con il tuo corpo e fare tutto quello che fai tutti i giorni a parte che il corpo lo usiamo tutti per lavorare assolutamente anche il manovale usa il proprio corpo per alzare i blocchetti e fare il cemento ma poi io sfido il non il manovale ma la persona che critica che spesso e volentieri non fa il manovale no assolutamente no la persona che dice la classica cosa eh no io lavoro 8 ore al giorno cioè le persone che manco loro lo fanno le persone che lavorano e guadagnano 600 euro sì che magari questi stanno in casa di mamma e papà nella cameretta all'università sì ve sfido io a stare tutto il giorno incollati al telefono a stare presto a numeri a stare presto a quello che è alla fear of missing out a dover stare sul pezzo a dover rispondere alle persone a dover tenere alto il proprio nome però è un po' come il lavoro dell'influencer quante persone dicono eh sì vabbè ma è facile ti fai le foto ma devi fare la foto anche il giorno che non hai voglia sicuramente ci sono lavori molto molto più faticosi molto più stressanti però tu puoi contare su te stesso non sei dipendente di qualcuno cioè il giorno che stai male stai male punto e basta sì sì il giorno che dici non c'ho voglia lo devi fare il giorno che c'è il covid devi fare comunque il contenuto anche se ti sta esplodendo la testa poi sicuramente è un lavoro io mi bacio i gomiti ogni mattina e dico sono molto fortunata sono fortunatissima però ti ripeto non sei fortunata cioè tu sei 16 anni che lavori sul suo campo sì però capisco che ok sono stata brava mi sono saputa adattare fare cosare però sono fortunata questo lo ammetto lo ammetto e magari chi lo vede da fuori il lavoro dice ok semplicemente farsi le foto che è una parte del lavoro c'è tutto il resto ma madonna cioè io fan carosello certe mattine mi ci angoscio proprio perché dico devo fare carosello devo fare no non so serio perché dico che cosa può piacere le persone perché poi esatto devi trovare quello cioè devi trovare la cosa che va che ti crei commenti che piaccia che salvino è difficile io c'era un periodo dove facevo una cosa folle facevo un carosello e un rilla al giorno ma l'ho fatto tipo per sei mesi a un certo punto mi hanno detto tu stai fuori di testa fai un terzo di quello che fai adesso vedrai che numeri rimarranno gli stessi ho detto perché stavo in shadow ban eh sì 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 ma tanto era come adampicarsi su un vetro è inutile io invece all'inizio postavo due volte al giorno e postavo alle tre di notte ok perché avevo prende più esatto il mio pubblico messicano che ha un buon affetto del mio pubblico messicano per accontentarli nel momento in cui serviva poi basta ho smesso adesso pubblico una volta a settimana ma poi c'è il post programmato sì esatto però avessi il materiale perché poi quando mi piglia male dico no 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 oggi non faccio le foto no no tutte le altre sono più brave tutte le altre sono più belle tutte le altre non sono in shadow anche quella è una cosa che ti logora sì mi immagino che da contact creator non stai oggi in shadow ban non c'è stai domani sì esatto sì 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 abbiamo difficoltà noi c'è della parte che diciamo il termine scientifico mi immagino una persona che si deve deve esporre il proprio corpo quanto più facilmente ci vada sì quindi dici vabbè ma pubblico questa foto e poi mi floppa e quello poi magari vedi quella lì che cresce di un milione in una settimana e dici no ma come ha fatto ma quella perché così cosa devi stare sempre al passo è difficile è stressante ogni tanto cioè da un certo punto di vista ok e ti chiedo un'altra cosa poi passiamo alla parte quella un po' più un po' più bastardina ti facciamolo ho parura ho parura ho visto che sei stata a Sanremo in supporto di Rosa Chemical che salutiamo Rosa vuoi venire a facciamolo prima o poi ci dobbiamo venire a facciamolo eh siamo il sesso italiano a facciamolo tu ci devi venire è stato molto bello secondo me questo triangolo che c'è stato credo ci fosse in mezzo anche Alex Mucci sì perché Alex ha fatto la copertina del suo del suo album i piedi in copertina quelli sulla pizza sono i suoi ok chiaro e quindi c'eri tu c'era lei c'era lui sul palco esatto e penso ci sia stata un'esposizione della Madonna per il sex working e anche per quel tipo di sessualità che lui propone esatto infatti il progetto era questo era quello di far conoscere di portare più visibilità alla cosa non tanto il quanto di votate rosa perché quindi tra l'altro io sono stata lì la prima sera che lui ha suonato e ha cantato che è andata benissimo era tipo anche davanti a ultimo era forse al settimo posto e nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato così no ma la canzone a me è piaciuta la canzone è stata anche ben recepita e quindi sono sono molto contenta è orecchiabile la canzone è molto carina lui vabbè è super fascinoso e quindi sì poi vabbè io rido troppo non so se ti capita tu su facebook ci lavori? sì ok i commenti ti vanno le varie testate la differenza instagram facebook tiktok che differenza abnorme eh sì ma perché comunque facebook ci sono i boomer è una cosa allucinante cioè stanno stanno incazzatissimi con tutto sì sì qualsiasi cosa venga detta io infatti quando so male magari ho qualcosa verso me stesso dico magari c'è un giorno che ho poca autostima dal punto di vista intellettuale apro facebook vado su tgcom24 ho il fatto quotidiano ho il fatto quotidiano e vedo i commenti sono lì una mezz'ora esco e sono un narcisista sono una persona mi sento la persona più intelligente del mondo è bellissimo sì sì rosa è stato perfetto per chi voleva scagliarsi contro tutto sì 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 poi il bacio con fede no rosa è un bravissimo provocatore sì assolutamente sono contenta soprattutto che lui sia adesso diventando famoso sì comunque era un po' troppo di nicchia e non se lo meritava sì ma nel suo essere di nicchia a me è sempre sempre piaciuto io con la musica italiana trappe italiane ho sempre fatto difficoltà a me lui mi è piaciuto pure le tracce più pazze che ha fatto infatti quando l'ho visto a Saremo ho detto vediamo un po' che succede e mi è piaciuto proprio tutto il progetto sì no poi la canzone era molto figa un po' un po' è nato a zero un po' bello 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 però comunque lui sì assolutamente sì 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 infatti ha portato se stesso bravo ok adesso la parte brutta ti facciamolo io faccio una rubrica su Instagram che si chiama esperienze bruttine in cui chiedo alle persone di raccontarmi un'esperienza imbarazzante al letto che hanno avuto e quindi la chiederò anche a te allora chi ha visto il video con X Murray saprà già che ho praticamente circonciso un mio ex con l'apparecchio ok stavo facendo del sesso orale e praticamente avevo un filetto che usciva dall'apparecchio qua e si è impigliato ha tagliato e ha incominciato ad uscire sangue come se gli fossero venute le mestruazioni avevo la bocca piena di sangue e lui zampillava finché non è scenduto continuava a zampillare e che cosa ti faccia se devi stare lì a guardare abbiamo riso abbiamo messo un po' di ghiaccio avete anche riso capito si bene non era grave ok però si lui poi era il mio ex storico mi ha detto guarda finché non togli quella roba io lì dentro non ci lo metto più comodo però magari il giorno che te va dici no guarda c'è l'apparecchio devo quasi tolta per togliere ah è successo negli ultimi mesi sì 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 beh forse quella è stata la cosa più più imbarazzante sì cioè comica dai imbarazzante no un minimo un minimo come è andata l'altro giorno con un ragazzo tuo eh poteva andare bene abbiamo rischiato un attimo esatto quindi adesso è la tua? la mia io ce ne ho tante cerco di raccontarne una che non ho mai raccontato in realtà c'ho la lista c'ho la lista vediamo un po' non scherzo c'ho allora ok questa è un po' cattivella in realtà perché verso lei l'ho raccontata a lei qualche sera fa no 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 amore con te esperienze brutte e finora niente cioè che io sappia ok a posto a posto no magari poi dice ma no ma qua a volta no eh ah ok perfetto lei un po' vabbè dopo viene a raccontarla allora sono proprio curioso e era ero pischelletto e mi ero appena lasciato la mia prima ragazza così e c'era questa ragazza che è scesa tipo dal Veneto non dirò precisamente la città così non mi può denunciare è scesa dal Veneto fino a Roma intorno a Capodanno per visitare Roma ma in realtà era una scusa per vedere me e poi dopo voi vi erate conosciuti tipo online su Twitter perché io ho avuto un piccolo periodo su Twitter che ero abbastanza conosciuto vinci a conoscere qualcuno su Twitter cioè commenti solo ma ti parlo tipo del 2014 cioè era una cosa che tipo scrivi le cazzate su Twitter e statevano un sacco di follower su Twitter credo di avere 29 follower sul profilo di adesso infatti non ci pubblico non mi va e e praticamente tipo lei scende sta a Roma così ah no vediamoci tutto quanto e ci vediamo e lo facciamo solo che io gli avevo stramesso in chiaro mi sono appena lasciato tra l'altro la prima era una relazione a distanza lei stava in Veneto io da Roma al Veneto e dico non mi sembra il caso e mentre finisco la prendo in un occhio e quindi lei va in bagno così tutta disperata e col dolore si sciacqua tutto quanto poi torna e rimaniamo così un po' cilla a parlare a un certo punto lei mi fa comunque ti va di fidanzarci di metterci insieme con l'occhio rossissimo incredibilmente rosso io vi faccio guarda ti ho spiegato prima che forse ma ha cominciato a sbroccare con l'occhio rosso quindi io ho sti immagini di questa ragazza con l'occhio rosso quasi modo sì sì con l'occhio rosso e mi sbagliato ma come è possibile sono scesa fino a qui guardate l'avevo detto e sono scappato e beh sì ma è stato è scremato all'inizio per fortuna perché sennò è pazze così sì tra l'altro attenzione un momentino divulgativo attenzione quando va a finire nell'occhio che non ci siano infezioni sessualmente trasmissibili perché sono trasmissibili anche se va nell'occhio quindi occhio perché deve essere non volevo fare il gioco di pallone non lo volevo fare quindi attenzione e se come si dice sui farmaci andate da un medico se è peggiore la situazione io non lo sapevo l'ho scoperto pure io non troppo di recente però in realtà è trasmissibile è trasmissibile un po' sono fluidi corporei in mezzo a altri fluidi corporei sì sì è come quando ti va una cosa medicinale nell'occhio e non te ce deve andare lo stesso discorso cioè tipo credo la sifilide sia trasmissibile tramite ma sai che ci sono alcuni stati in america che ti puoi sposare solamente se hai un attestato che dice che non hai la sifilide è la clamidia ho scoperto questa cosa quando importiamolo quando vivevo a a los angeles abitavo vicino a delle chiesette chiesette vabbè cose dove si sposano che in realtà non sono consacrate ok lì è super libero cioè tipo organizzi una sera sei un po' imbriaco dici oh me voglio sposare con questa esatto sì sì non è solo a los angeles c'è solo a las vegas anche tipo los angeles e mi ricordo che c'era scritto è possibile sposarsi anche senza il test e la clamidia o la gonorrea non si fidi non mi ricordo comunque non le robe brutte e io dice ma perché perché ho chiesto a una mia amica che faceva che vive lì e mi ha detto che in alcuni statici si può sposare solo con il test onde evitare e ti dico un fan fact non so se l'ho già raccontata la cosa della della sifilide l'ho già raccontata non che io l'abbia l'ho raccontata facciamolo no perché è una cosa è una cosa che dici dio mio no per capire quando la gente pensa che non siamo in un momento di progressione sessuale ricordiamoci che circa 100 anni fa durante il ventennio fascista quello che accadeva è che innanzitutto di base la donna come moglie era considerata semplicemente una sforna figli e poi il godimento sessuale c'era con le prostitute perché quello che fai con la moglie non puoi farlo aspetta quello che fai con le prostitute non puoi farlo con la moglie che deve essere quella che ti scoppia la missionaria e basta e basta e invece è cazzata è proprio quella che va messa in tutte le posizioni fate come volete ma c'è ancora questo retaggio sì un pochino sì a me è capitato sia qualche cliente che qualche amico che mi diceva eh no però mi fa strano perché con la mia ragazza scopo come se fosse una di cui non mi frega niente è bello cioè nel senso che non mi frega niente perché quella che non gli fregava niente se la scopavano magari ma devi fare così anche con la tua tipa sì anzi lì c'è proprio tutto il senso di sicurezza la tranquillità per fare proprio tutto se c'è il bello della coppia è quello poter essere liberi invece per alcuni è ok con la mia ragazza faccio così e con la prostituta posso fare questo questo e quest'altro e invece no famo tutto con tutti esattamente e quindi c'era questo concetto qui molto importante e spesso andando a sex worker a prostitute prendevano la sifilide e prendere la sifilide a un certo punto era diventato un trend ma come? e c'era una poesia di non mi ricordo che artista e diceva è scomodo prendere la sifilide però ti fa diventare un uomo vero perché voleva dire che eri andato con le prostitute? sì che avevi vissuto come una seconda virginità capito? una cosa tra l'altro quali sono i sintomi della sifilide? la sifilide è un virus progressivo nel senso che prende all'inizio il patto genitale si è manifesto e poi arriva fino al cervello però tipo lì nelle parti basse chiazze sì sì perdite perdite sì sì nell'uomo perdite biancastre verdastre sì sì ti svegli la mattina vuol dire che lì dentro è già tutto marcio sì sì c'è proprio un discorso di purulenza ti svegli la mattina magari che hai delle perdite nelle mutande fai oh oh e ti vai a fan test mamma mia le donne ci hanno perdite per qualunque cosa dalla candida che non hai mangiato abbastanza yogurt per tutto sì no diciamo che tra virgolette per fortuna c'è molta più sintomatologia nella donna nel senso che l'uomo tende ad essere molto più asintomatico cioè l'uomo è un po' un tore in realtà cioè tipo la candida l'uomo prima che lo veda l'ha già attaccata a miliardi di tipe sì soprattutto l'HPV perché la credo credo non mi fucilate se sto a dire una cosa poco precisa però credo che soprattutto per l'HPV la i le vesciche i papillomi non siano così manifesti come lo so nelle donne cioè la sintomatologia quella visiva i condilomi scusate non siano così frequenti spesso è silente esatto sì 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 no infatti nell'uomo infatti il preservativo sì 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 usiamolo della taglia giusta perché perché se no lo perdi io quando ero piccolina è successo che hai dovuto fare lo speleologo colui che si è messo lì a cercare esatto si si l'aveva perso nella caverna ero piccola avevo tipo 16 anni sì sì è stato imparazzantissimo pure a me mi è successo ma dov'è 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 è dentro è dentro addio è dentro sì 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 e ricordiamoci che tra l'altro la vagina è un canale chiuso abbastanza chiuso quindi di conseguenza si può ritrovare male che vanno in ospedale ve lo levano una mia amica era successo aveva fatto sesso col Tampax per poter far sesso per non dire al tipo che non poteva e niente il Tampax è andato in posti dove dove non dove anche perché tipo il pisello è abbastanza grande quindi proprio aveva spinto e niente ospedale gli hanno ricchiappato una pinzetta brutto brutto se sono Tampax cacca non si fa no non si fa allora a parte che un vero marinaio naviga anche nel Mar Rosso però asciuga manino sotto pure la doccia esatto si 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 se vi va se vi va se no si saltano quei due o tre giorni si può non si può non si può tre giorni senza non si può no io sono abbastanza easy cioè è una cosa per esempio da più piccoletto c'evo una cosa ma più perché veniva detto che durante il ciclo poi un giorno ci ho provato ho detto vabbè ma avvine si e magari c'è un po' d'ore di ferro però si si c'è quella cosa un po' si però uno se gli parte la nave gli parte la nave non sai guardare il dettaglio è normale ci sta e te volevo dire a proposito questo discorso preservativo si esiste la taglia giusta cioè è importantissimo misurarsi il pene perché le persone si misurano il pene alle medie dicono ah ce l'ho lungo 74 centimetri più di te ah è così però in realtà ha senso misurarsi la circonferenza o con un metro da sarta oppure con un pezzetto di carta che poi si mette sul righello e poi fare l'equivalenza con una cosa che si chiama larghezza nominale nelle tabelle che si trovano su internet e trovare la taglia giusta altrimenti o si rompe o si sfila oppure causa disfunzione erettile perché comprime troppo quindi taglia giusta come le magliette e non vestite oversize per caso che si sfila esatto ve lo perdete dentro la grotta underrated overrated nel sesso missionario mi piace mi piace tantissimo sei anche tu una cultrice delle varie varianti quindi gamba su e con il cuscino lì e poi in realtà una roba che faccio poi non so se lo fanno tutti è che io mi muovo cioè a me piace se lui sta fermo e io mi muovo figo figo così stimola il clitoride anche in quella posizione perché io sono un clitoridea capito da provare ok sì sì figo poi pure il cuscino sotto sì il cuscino sotto che alza il bacino perché il mio ragazzo è alto due metri e quindi c'è proprio una questione che alcune cose tipo il sesso nella doccia ma chi l'ha mai fatto chi ci riesce dovete mettere i cosi per attaccarmi stesso in piedi quando sul tavolo no è troppo basso è troppo alto ok quindi sì missionaria assolutamente approvata pecorella oh sì pecorella con sempre stimolazione del clitoride ok e questa è una cosa vogliamo dire una cosa agli uomini etero che si preoccupano del fatto che la ragazza si tocchi perché è una cosa brutta perché tante persone la prendono cosa ho sbagliato in tutti questi anni no no tante persone la prendono come una cosa brutta e la serie si sta toccando perché non goda abbastanza con il pene e invece no no anzi delle volte lo devi fare perché il pene ti fa male cioè nel senso è talmente forte la spinta che mentre ti tocchi il clitoride un po' rallenti cioè i muscoli sono più ok chiaro prendi meglio non so come dirlo ok ok no pecora pecora in tutte le sue varianti sì assolutamente sì toys sì 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 il mio preferito è oggi si chiama wonder 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 o akichi qualcosa del genere è quello di samantha di sex in the city ok quindi quello che esatto ma quello lì è una roba fantastica l'ha sempre sottovalutato sempre pensato che fosse tipo troppo grande una roba da posto al market finché un brand non me l'ha mandato e tu hai detto vabbè lo proverò no ma è una roba fantastica cioè tu vieni in dieci secondi e il mio ragazzo mi ha nascosto perché era diventato una droga appena usciva di casa ma di tipo dieci volte al giorno e ho detto guarda ecco toglilo sai qual è la pericolosità perché diventa la dipendenza sì più che altro crea una stimolazione così intensa così veloce che poi diventa irreplicabile a letto come il succo clitoride esattamente e infatti dicendo che è tipo Venom te la stai seleccando poi torni alla cosa normale e dici cavolo senti tantissimo a proposito di Venom ti devo fare una domanda un po' da maschio per togliere la curiosità i maschi la lingua la lingua biforcuta ha delle proprietà per quanto riguarda quel tipo di stimolazione sì nel sessorale sì sì esatto ma un po' come il piercing alla lingua anche io per esempio il piercing alla lingua quando mi è stato fatto ho detto vabbè mi aspettavo di più cioè non c'è che tutta quella cosa stavo lì tutto in hype poi ho detto vabbè dai sì anche la lingua biforcuta è più l'immaginario ok però sì ok può usare tutte le pa forse è più la visione esattamente sì sì anche perché ora nel sogno lo prende tutto con la lingua devi avere una cannuccia ok capisci che beh ci sta il dito quanto ti ha fatto male te lo chiedi malissimo ok malissimissimissimo dieci giorni da incubo mangiavi gelato che mangiavi? i primi giorni solo shaker proteico perché mi si erano gonfiati gli adenoidi sembravo tipo Corey Taylor con il collo grosso così e non riuscivo a deglutire e poi pian pianino si sono sgonfiati ho cominciato a parlare e ho omogenizzato il decimo giorno il decimo giorno la pizza sono quasi morta soffocata perché non avevo il controllo della lingua e quindi non ho mandato giù quando ancora non ero pronta e sfancula proprio appena tagli il tuo cervello capisce che sono due parti quindi riesci subito a muoverla poi per dieci giorni non la muovi perché era lì ferma e poi ci ho messo un po' a comandarla però adesso tipo non mi mordo più la lingua o te ne mordi metà se dovesse succedere te ne mordi una esatto ok e cena fuori? no ok no pizza pizza a casa pizza a casa e Netflix eh sì sì farlo in macchina che scomodo allora ho preso la jeep ok la jeep l'ho presa apposta esatto perché ho avuto la smart e non ci sono mai riuscita vabbè con la smart c'era un libro che non vogliamo fare pubblicità però secondo me è una delle cose più utili che l'essere umano abbia fatto e si chiama tipo smarta sutra che sono tipo le posizioni che puoi fare nella smart bello bello no quando ero piccolina sì ne facevo un sacco in macchina perché non c'erano altri posti ma preferisco il letto di casa sì in macchina è bello perché magari hai paura di essere scoperto magari che ne so stai tornando a casa e inizi a sugliare e allora ti fermare subito la sveltina è ok la sveltina è ok io sono fan della sveltina io le maratone non le sopporto per me quarto d'ora quattro d'ora va bene quindi sfatiamo il mito che è durare 50 minuti se no non va bene ma anche perché io ho orgasmi molto veloci e quindi alla quinta alla sesta che so basta ho dato sul divano sì 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 anche per il discorso sveltina immagino cioè guarda Netflix pizza sveltina esatto inizi scendi fai con la bocca un po' tutto anche lì sì dieci minuti che poi devo tornare a guardare qui dicono vabbè ma 15 minuti non è una sveltina infatti non stavamo parlando di sveltine stavamo parlando di tempo esatto la sveltina quant'è 3-4 minuti che a me va bene comunque per le robe magari che sei un po' o in giro che so in serata che vai in bagno oppure quando ti piglia giro nel bosco via se no no 15 minuti secondo me è il tempo giusto per un rapporto sessuale senza la doccia la cena senza la doccia ah sì che dopo la pizza riesci tu io dopo la pizza dormo picco glicemico dico buonanotte no io ma sarà anche il mio sessuologo però dopo la pizza riesci sì sì no ma io riesco in tutte le maniere forse quando bevo che lì ho un po' di capogiro quindi non capisco ne dove è davanti e dove è dietro di me stessa però per il resto sì fumi? canne? no ok e bevo pochissimo alcol ok quindi al mazzo te sbarella e non bevo neanche le robe casate cioè sono proprio una palla ok quindi sei super super serena sotto questo aspetto dici sempre sesso sobrio sì assolutamente domandina infamine vai ma hai mandato un nudino alla persona sbagliata questa domanda l'ho voluta sempre fare a te cioè della serie sia nudino che stai mandando un nudino esclusivo a una persona che so un partner e ti è capitato di mandarlo a qualcuno a mio padre ma quel discorso di prima no 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 ti è capitato mi è capitato perché ce l'avevo nella chat dopo su whatsapp no 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 scusa vabbè l'hai già visto in televisione non ti preoccupato non ti è preoccupato nel niente ok sentito parenti stretti farlo una volta ho visto i miei nonni però props per i nonni perché i nonni nonni che avevano 65 70 anni io passavo tutte le vacanze con loro nell'estate la mia camera era di fianco alla loro mai sentiti mai sentiti fare niente a un certo punto non so perché una notte mi sveglio per andare a far la pipì e vedevo la luce del televisore sono ancora svegli ma perché siete ancora svegli c'era mio nonno sopra mia nonna oh dio e che ti hanno detto no non mi hanno visto sono rimasta così e già e basta sei andata a dormire capito guarda il telefono ben dimenticato ero troppo piccola avrei avuto tipo 12 anni 13 sono rimasta malissimissimi è degredo però props per i nonni che comunque ha 65 70 anni questo per sfatare anche un altro mito che più si va avanti tra l'altro lui marinaio lei casalinga sono insieme da 50 anni in più ispirazione ispirazione dimenticato il nome di qualcuno portato a casa no perché io in realtà ho centellinato la mia patata quindi non ho avuto così tante ho avuto un periodo della mia vita dai 20 ai 24 25 in cui comunque la dava un po' come se non fosse la mia e poi basta sono diventata super selettiva quindi no quindi non ti è mai capitato forse magari quando ero più piccolino dato il numero sbagliato di proposito un sacco di volte al massimo mi scrivi su internet la classica cosa e poi non rispondi ottima tecnica fatto nel bagno di una discoteca sì bagno di discoteca bagno dell'aereo era privato però non vale questa ce l'hanno in pochi secondo me questa è una di quelle cose che ce l'hanno l'1% della popolazione mondiale esatto fatto la cacca dopo la prima notte insieme no sei cacca timida sì io ho il curro territoriale cago solo a casa mia no 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 zero non ce la faccio mi ricordo io spesso facevo delle riunioni con altre ragazze facevamo tipo una settimana di shooting e io non riuscivo ad andare in bagno zero zero una ragazza mi diceva ma devi essere più femminista io scusami cosa c'entra il femminismo con fare la cacca femminista non devi preoccuparti sia la tua cacca ok vabbè dipende cioè tipo la parla davanti all'uomo magari può essere un discorso di ruolo femminile ma se è proprio una cosa di base io arrivo a farmi venire dei dolori assurdi ma in bagno non ci vado ok mentre con alcune mie amiche riesco tipo con Alex riesco ok se lei stiamo parlando riesca a parla ok il mio ragazzo no 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 il mio ex abbiamo convissuto per dieci anni e i primi due anni doveva tipo cambiare ala della casa si andava al bar a fare colazione si 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 e io potevo farla ok chiaro però fighissimo che sappiamo tutti adesso che quando Ria e Alex Muzzi stanno insieme Ria riesce a fare una cacca serena questa è una cosa figha grandissimo scoop che ci hai regalato grazie va bene Ria io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui e niente grazie mille in bocca al lupo per il content creating grazie